vogliamo aiutarti selezionando i migliori prodotti selezione settembre top 5 punto ariete 984 bon cuisine 250 forno elettrico ventilato 25 litri 1500 w 6 posizioni cottura timer 60 silver 46 5 per 30 per 38 centimetri il suo prezzo approssimativo è di 76 euro maggiori dettagli per il tuo acquisto nella descrizione del video top 4 delonghi e o 32 852 sfornatutto maxi forno elettrico 32 litri 2200 w nero il suo prezzo approssimativo è di 179 euro maggiori dettagli per il tuo acquisto nella descrizione del video se ti stiamo aiutando su questo canale faccelo sapere con il tuo supporto top 3 punto severin tu 2068 forno elettrico con aria calda ventilata 4 livelli di cottura temperatura regolabile da 100 gradi celsius a 230 gradi celsius timer fino a 60 minuti teglia e griglia incluse 20 l 1500 w metallo nero il suo prezzo approssimativo è di 99 euro maggiori dettagli per il tuo acquisto nella descrizione del video top 2 mulinex o x 4448 ottimo forno elettrico con capacità di 19 l potenza 1380 w nero 71 per 117 per 81 centimetri il suo prezzo approssimativo è di 81 euro maggiori dettagli per il tuo acquisto nella descrizione del video top 1 delonghi eo 14902 w sforna tutto forno elettrico 14 l 1400 w nero bianco 25 5 per 51 per 40 centimetri il suo prezzo approssimativo è di 114 euro maggiori dettagli per il tuo acquisto nella descrizione del video se vuoi vedere maggiori dettagli ai link per acquistare nella descrizione speriamo di averti aiutato aggiorniamo costantemente la nostra selezione iscriviti e non perderlo a presto sul che eh che